Una denuncia per falso ideologico verso tre carabinieri della tenenza di Bollate è il nuovo atto della comandante della polizia locale di Corbetta, Lia Vismara, nella vicenda che l'ha vista coinvolta a partire dal 4 gennaio scorso, quando è stata denunciata per spaccio di sostanze stupefacenti perché è trovata con della cocaina in auto. Abbiamo saputo dall'avvocato della comandante della polizia locale di Corbetta che la stessa ha presentato una denuncia per falso ideologico verso tre appartenenti all'arma dei carabinieri della tenenza di Bollate, sono i tre che gli hanno fatto il verbale di denuncia, la famosa nota in cui si è trovata con la cocaina perché sembra, a detta della comandante ma anche a detta di quattro testimoni che hanno già confermato la propria deposizione, che le persone che hanno firmato il verbale, che hanno sottoscritto di aver fermato la dottoressa Vismara non erano le tre che l'hanno poi fermata. Tutto questo fa presupporre però tante stranezze, cioè se tre carabinieri fermano una cittadina, fanno una prequisizione, rilasciano poi un verbale, devono essere citati tre che l'hanno fermata, non altre persone e non si capisce il perché. E non è tutto perché queste nuove denunce fanno seguito ad un'altra già fatta verso un ex dipendente comunale, un vigile che avrebbe anche minacciato la Vismara a seguito del suo licenziamento. La stessa comandante aveva presentato subito dopo essere stata fermata un esposto alla Procura della Repubblica citando una serie di fatti, minacce ricevute, danni e aneggiamenti all'auto, eccetera, nei mesi precedenti, dando nomi e cognomi tra cui c'erano alcuni ex dipendenti del Comune di Corbetta, alcuni trasferiti, qualcuno licenziato, quindi lei ha fatto un esposto dove ha spiegato alla Procura i fatti antecedenti quella sera, in modo che la Procura stessa possa verificare. Lei ha ricevuto delle minacce alla presenza anche di altre persone per iscritto anche via WhatsApp dove si dicevano te la farò pagare, perderai il posto di lavoro, quindi minacce molto esplicite, molto chiare, molto dirette che poi alla fine forse anche quest'atto della cocaina in auto puntava a fargli perdere il posto di lavoro.